Amici Trebimeteo, un saluto da Luca Pace e benvenuti a questo aggiornamento delle previsioni per la giornata di lunedì. Sul Mediterraneo è ancora presente questo campo di alta pressione che garantirà prevalenza di tempo stabile e soleggiato sulle regioni italiane, in particolar modo quelle del centro-sud. Attenzione però perché l'anticiclone va man mano indebolendosi, favorendo un progressivo aumento dell'instabilità nel corso delle ore centrali della giornata. Vediamo quindi nel dettaglio la nuvolosità attesa per quanto riguarda la giornata di lunedì, prevalenza di tempo stabile e soleggiato sulle regioni del centro-sud, maggiore nuvolosità che invece insisterà sulle regioni settentrionali. Vediamo in definitiva la previsione per la giornata di lunedì sull'Italia, come detto al centro-sud prevalenza di tempo stabile e soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche nuvo in più che insisterà sulla Sardegna, sulle regioni del basso tirreno e nel corso del pomeriggio avremo qualche fenomeno atteso sull'Appennino abruzzese. Al nord maggiore nuvolosità in particolar modo sulle regioni di nord-ovest con occasione tra pomeriggio e sera per rovesci sparsi sulle aree alpine, in particolar modo quelle del Piemonte, dove non si esclude che i fenomeni potrebbero interessare anche i settori pedemontani. Per quanto riguarda le temperature, queste sono stazionari ovunque ancora dal sapore decisamente tardo primaverile. Bene, per questo aggiornamento è tutto, ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Treibi Meteo.